Luca, il re, sei inserito in questa struttura, in questo carcere, il San Michele, un carcere di frontiera, è assolutamente protagonista insieme a te, parallelamente a te. Quindi è una curiosità, quanto ha influito la location sul tuo modo di approcciare al personaggio e sul tuo modo di recitare in questo caso? Guarda, questa la so, perché è stata molto importante. Io sono una persona che sente l'energia delle persone un po' come se fossero degli odori. Sento delle persone scure come se manassero un cattivo odore e questo vale anche per i luoghi, soprattutto in luoghi come quelli che sono stati testimoni di grandi sofferenze, di uomini che appunto stavano male, soffrivano e questa energia in parte gli è rimasta attaccata. Magari non con quella violenza, non con quella forza, ma c'era, sentivi. In un carcere come le nuove ne sono successe talmente tante che proprio è come... per me è stato come entrare in una chiesa, da un punto di vista di rispetto del luogo. E poi è un luogo che ti parla. Mi sembra che la serie poggi su tre elementi. C'è il sistema, sei inserito in un sistema, e poi c'è il giusto e lo sbagliato che vanno oltre al buono e al cattivo. Un'opinione su questi tre elementi che credo poi siano importanti sia per la serie ma soprattutto sul tuo personaggio. Ma sai, il giusto e sbagliato, hai perfettamente ragione, è molto interessante quello che dici, perché poi sposti il metodo di misura e il giusto e sbagliato cambia, cambia di campo. Cioè quello che era giusto per un metodo di misura diventa sbagliato per un altro. Ed è un po' questo, diciamo, il centro intorno a cui si muove Bruno, perché rispetto a quello che lui è, e cioè un servitore dello Stato, fino a un certo punto rispetto a quelle che sono le regole dettate allo Stato, dopodiché se ne fa delle regole sue personali e in base a quello agisce. Questo diciamo che è un po' un leitmotiv della serie. Altro elemento, altro concetto che ho notato, e vorrei da te magari un'opinione, credo che la serie abbia dei riferimenti western. Appunto, lo sceriffo e il bandito, in questo caso tu potresti addirittura essere entrambi. Quindi un'opinione anche su questo. No, rido perché hai colto proprio un elemento che credo sia difficile da cogliere, quanto, piuttosto perché è subliminale. Anche per esempio la scelta che Giuseppe ha fatto delle ottiche, sono le ottiche, le anamorfiche, proprio tipiche, usatissime nel periodo in cui si facevano tanti film western. E quindi c'è stata anche da questo punto di vista qua, un tentativo di richiamo a quel modo di raccontare la storia, più che altro che era dei tipi western. e quindi lo sceriffo, il cattivo, il buono, il traditore. Mi trovi perfettamente d'accordo con questa tua osservazione. Ultima cosa, appunto, sei in un carcere, quanto ti cambia un'esperienza del genere all'inizio, come si entra all'inizio e come si esce alla fine? Ma guarda, se posso dire che cosa mi ha cambiato, se posso dire di essere cambiato, è stato tutto lo studio che ho fatto prima sulle carceri, che uno pensa in un certo modo, invece siamo, chi ha avuto la fortuna, insomma, diciamo, di non andare in carcere, ne sa veramente poco, sa da quello che ha lei, ma insomma, non è reale. Quando vai lì e conosci gente che quei posti lì li abita, ti rendi conto, a, che la realtà è completamente diversa, e b, che considerare quel posto come un inferno, è ovvio, non è un bel posto, tutti vogliono uscire, però è anche un luogo dove possono succedere delle cose belle, di una unione tra esseri umani, di una condivisione vera, reale, anche faticosa, però vera, reale, che a me ha molto affascinato. Grazie mille, grazie e ancora complimenti. Grazie mille, grazie mille, grazie a tutti.